buonasera buonasera a tutto il mondo oggi è mercoledì mercoledì sera ci stiamo preparando per sabato sabato faremo questa bellissima iniziativa con il festival della moda con sabrina prati e raucci e per il momento ci stiamo preparando a realizzare nuovamente virtualmente live un iniziativa molto importante sabato e 25 ottobre ore 18 non perdete l'evento in diretta in facebook youtube per questo nuovo evento coved bene vi ringrazio stiamo aspettando con questi baldigiovani per provare a intervistarli e questo è un messaggio per anche per loro che il mondo è cambiato e dobbiamo darci da fare grazie buona serata e ci vediamo alle prossime puntate ciao 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 ciao